Giornalista che vive la professione come missione, corrispondente di guerra in Afghanistan, Iraq e Pakistan, sensibile verso le tematiche legate al mondo dei più deboli, grazie ai suoi servizi televisivi ci ha permesso di conoscere meglio i drammi vissuti dai bambini, dalle donne e dagli anziani di questi infelici e martoriati paesi. Mimosa 2011 a Mimosa Martini Speriamo che la possa mettere in bella e mostra sul canale 5 Il Presidente Dorsi le consegna i fiori Se le ragazze per favore liberano poi dalle mani la targa Ecco, alle fuori